musica il nighting routine significa cosa faccio prima di dormire quindi io questo lo sto registrando allora guardate come vedete è pomeriggio come vedete sono le sono le 2.48 raga sono le 2.48 questo video voi lo vedete alle 4 raga lo vede alle 4 raga che non sapesse cos'è la nighting il team tipo cosa faccio prima di dormire e dopo vedete cosa faccio prima di dormire e cosa va prima di iniziare il video dovete iscrivervi al canale e lasciare un bel like per portare questo video e inoltre seguitemi anche su instagram riccardo trattano basso di rizzer e seguitemi anche nel secondo accanto instagram riccardo trattano basso che me e ragazzi sono le 2.48 2.49 ci vediamo alle 11 barra mezzanotte perché quando c'è la scuola io vado a letto verso le 11 barra mezzanotte raga quindi niente raga ci vediamo stasera vabbè ci vediamo stasera vabbè che io sono le 2.48 alle alle 11 barra mezzanotte vado a registrare il video ci vediamo raga oh raga sono le 10.48 dall'ultima volta che ci siamo incontrati erano le 2.47 di pomeriggio ora sono le 10.48 guardate se non ci credete è sera raga cioè è sera quindi vado a iniziare la mia nighting ragazzi già vi ho detto questa cosa all'inizio e ragazzi direi che possiamo partire come prima cosa la cosa che faccio allora la prima cosa che faccio non metto il pigiama mi guardo un poco di netflix con tipo la nutella quindi ora prendiamo una netflix facciamo come se se voi non ci siete guarda faccio come se voi non ci siete prendiamo una netflix poi quando alla fine ho preso netflix prendiamo tipo il pigiama mi guarda faccio come così ci guardiamo un film ci guardiamo ci guardiamo una bocca le ragazza le ragazze le ragazze le ragazze e poi raga le ragazze quello che è a poi dopo che ho finito la giornata aveva guardato due ore tipo di netflix vado al vado a prendere lo zaino prendo lo zaino e mi faccio lo zaino si ragazzi me lo faccio a costora in questo qua allora vediamo cosa c'è per domani allora domani giovedì vabbè voi lo vedete domani giovedì tecnologia c'è inglese c'è matematica c'è storia c'è matematica c'è religione non c'è raga mi sto facendo lo zaino con voi madonna che è imbarazzante raga che è imbarazzante storia c'è italiano no vai ok poi c'è non c'è italiano storia c'è tecnologia c'è ora in questo momento qua prendo tipo ah no ho già tutto fatto quindi non mi serve solo il libro era di inglese quindi un attimo libro di inglese libro di inglese non c'è dove cavolo è il libro di inglese non c'è ok ecco quel libro di inglese o qua lo mettiamo qui mettiamo questo qua chiudiamo lo zaino raga poi la merenda me la prendo la mattina non me la prendo la sera me la vendo lattina e la merenda questa questa li metto qua quelli che non mi servono li metto qua poi dopo che abbiamo finito lo zaino andiamo a posarlo dopo chi è dopo che abbiamo finito di fare lo zaino mi mangio un'altra cosa di nutella cosa ora faccio piano perché i miei genitori dormono non dormono stanno nel letto però devo la faremo la faremo i miei genitori eccomi qua raga chiaramente non qua devo fare silenzio ciao ciao i miei genitori ciao 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 cah ok raga sto parlando piano perché ce l'ho detto cos'è prendiamo il nostro dentifricio capitano di signor capitano io lo zaino proprio me lo metto all'ultimo più qui porco del ognio e anche questa volta mi scorro il bicchiere c'era allora ogni volta mi scorro il bicchiere non mi scorro il bicchiere l'abbiamo finito e mettiamo la cosa sull'opposto e mettiamo questo qua e il dento lo sciocco e poi mi rievo gli occhiali, guarda, guarda che sono brutto giravo la faccia e lavo la parte la cazzo la riuscivo a mano me le metto al prossimo, mi metto i nuovi occhiali mi metto il mio riccardo ok un attimo raga dico andate fuori ok dopo raga vado in magno quindi vi censuro questa parte ovviamente quindi ci vediamo poi finisco raga ok raga dopo che ho finito buonanotte ai miei genitori andiamo buonanotte dat data ovviamente questi come li mangio domani perchè sono mi sporco di noi tanti raga madonna quanto sono figo non è vero raga 12 mi metto il pigiama però ora questa raga mi metto il pigiama insieme a voi però mi metto di la ovviamente dove c'è il pigiama dove c'è il pigiama ecco ecco quel pigiama ok raga un attimo un attimo scusate c'è raga non sto so non mi metto da là no ciao raga ok ok chi ho eh uuuu uuuu dopo raga ha maniche corte dopo raga mi lavo il pantone quindi un attimo poi raga dopo che mi sono messo il pigiama mi guardo un po tipo di di come si chiama allora scusa allora prima mi guardo tipo tipo prima di tutto raga mi guardo un film un film raga dopo dopo che mi sono messo il pigiama mi sono lavato i denti e cose varie raga e cose varie mi guardo un po' di si lo so raga mi prendete per un bambino di 5 anni un attimo aiuto mi prendete per un bambino di di 5 anni adesso perché dopo che mi sono messo tutte cose io mi guardo i cartoni animati su netflix quindi raga un poco prendete per un bambino di 5 anni però raga mi piace che raga mi piace un episodio molto figo che mi co mi piace raga un episodio davvero davvero figo dei cartoni animati quindi tipo dopo che mi sono ho finito di fare tutte cose io guardo 5 episodi di di un cartone animato raga prima di giocare di giocare netflix gioco un poco tipo a gta viva 18 raga ora devo postare queste cose qua devo postare questi qua mi accompagno l'altro po' quindi postiamo questi porca puttata raga che bebo bimbo che sono poi qua c'è il prolungo c'è il nozzo non mi tocca il prolungo qua se vedete nei video nel 2018 nel 2018 si raga state sentendo bene nel 2018 avevo fatto una morning routine quindi andate a vedere e oggi c'è la nighting routine raga e niente ragazzi il video finisce qua questo era come la mia nighting in routine ragazzi e niente ragazzi il video finisce qua se vi piacete iscrivetevi al canale lasciate un bel like per supportare questo video e inoltre seguitemi anche su instagram riccardo trattino basso direx27 e seguitemi anche nel secondo account instagram riccardo trattino basso gamer ragazzi mi guardo 5 episodi di cartone animato e ragazzi io vi do l'appuntamento dopo il video della prossima live mi vado a guardare a questi 5 episodi raga